Dal 25 ottobre 2014 la Nord Meccanica non solleva trofei e le giocatrici non indossano medaglie al collo, una piacevole abitudine che nel corso del bienio 2012-2014 appunto divenne una sorta di consuetudine per una squadra che punta ora ad interrompere il digiuno. L'occasione ghiottissima si ripresenta nel lungo weekend di Ravenna, sede delle Final Four di Coppa Italia. Sabato al Pala De Andrè la squadra di Gaspari affronta le 17.30 Montichiari, ultimo scoglio prima di approdare la finalissima dove accederà anche la vincitrice dell'altra semifinale in programma sempre sabato ma alle 20.30 tra Bergamo e Pomì. E proprio una finale Piacenza-Casal Maggiore sembra rappresentare l'epilogo più scontato della manifestazione, vietato però sottovalutare Montichiari, due vittorie su due in campionato con le Bresciane che però nei quarti di finale hanno stupito tutti. Il sestetto di Barbieri è infatti riuscito nell'impresa di piegare la capolista incontrastata di A1, Limocco Conegliano, recuperando addirittura da uno svantaggio di 7 a 13 nel corso di un tie-break infuocato. Dunque, come riferito anche da coach Gaspari ai nostri microfoni, potrebbe stare proprio nella mancanza assoluta di pressione il solo possibile vantaggio che potrebbe vantare la formazione lombarda di fronte allo strapotere tecnico di Bauer e Soce. Tutti ingredienti che sembrano indirizzare il match verso i binari dello spettacolo, ma con un pronostico che pende forzatamente dalla parte piacentina.